Sta lottando da molti mesi per una scuola disumana, a favore di una scuola che rimanga a quello che noi sappiamo, relazione, contatto, umanità. Andrea Brocchieri è un insegnante del Prati, lui insegna filosofia, la materia che ci potrà salvare e adesso voleva leggervi un suo intervento come spunto di riflessione. E contemporaneamente io e un'amica Tania distribuiremo la sua lettera perché ha piacere di averla. Va bene? Grazie Andrea per il tuo contributo.